Salve a tutti, grazie, grazie, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui a un po' a parlare di questa cosa, avrete letto già dal titolo, ovvero questi youtuber che sono saliti un po' troppo in alto per poi dei numeri non tanto eclatanti, nel senso, stiamo parlando di canali di 3000 iscritti circa, perché questo viene detto e ripetuto da questo elemento, e potete vedere, ma il senso di questo video qual è? Il senso di questo video qual è? Nel senso che le persone che seguono il mio canale li ho visti un po' in giro, nel senso, vabbè, giusto che non è che si vedono solo il mio canale, è giusto che andate a vedere gli altri anche, però dovete pensare una cosa, è giusto seguire queste persone che vi prendono per il culo o direttamente vi vanno a insultare sul personale soltanto perché non siete d'accordo con lui. Prendete il mio canale, quante volte non siete stati d'accordo con me, con, che ne so, speak no evil sul corvo, ma io non mi sono messo lì a insultarvi, o a dirvi brutte cose, o andarmi a vantare, nel senso che, cioè, vantare, cioè ragazzi, stiamo vantando del nulla, nel senso che io ho quasi 2.200 iscritti, questo ne ha 3.000, vabbè, 800.000 è che cambia chissà che, però vi voglio far capire che o 2.000, o 3.000, o 5.000, nessuno ha il diritto di andare a insultare un'altra persona, anche se ne ha 100.000. Io posso dire, sai, questa persona si era inalzata troppo, non so, che è arrivata a 3.000 iscritti, cazzo, questo qua non mai si sente dio in terra, allora ci può stare, ma è ridicolo che una persona, quasi 50enne, per avere soltanto 3.000 iscritti va a sentirsi, che ne so, superiore agli altri, soltanto perché ci sono 3.000 coglioni che seguono a lui. Quindi, cioè, non concepisco, soprattutto non concepisco perché voi seguiate questi canali che vi vanno ad insultare e ad criticare. Sicuramente qualcuno di voi sta capendo di chi sto parlando e sicuramente capirà anche l'utente che li ho visti lì, sicuramente mi diranno, Iman, cazzo hai ragione, mi hai visto. E soprattutto queste persone qui, soltanto perché o perché i numeri, o perché sono stati, non lo so, presentati da un critico, non so ma anche che cazzo sono, si sentono chissà chi, non è perché mi presenta Pippo Baudo o mi presenta Jerry Scott, io sono allora, vuol dire che allora dovete inginocchiarmi a me, no, non mi sento un cazzo, ti può presentare anche la Madonna, ma non hai il diritto di andare a insultare le altre persone soltanto perché la pensano diversamente, ti vanno a citare poi, ah questo critico ha detto così, questo non capisci niente di cinema, c'è stato questo qua che l'ha osannato, tu come puoi, ragazzi ognuno, qualsiasi film, ma pure io, quanti film sono stati osannati, vengo io e li distruggo, cioè non è perché ognuno ha i suoi gusti, ci sono cose oggettive, sì è vero che un film oggettivamente è bello, oggettivamente è una merda, quello sì è vero, ma ci sono delle vie di merda, ci sono alcuni film che in base il contesto, in base anche a chi lo va a vedere, cosa cerca, e certe volte non viene soddisfatto da quel film, ed è capitato spesso, lo sapete, anche qui nel mio canale, che alcuni sono d'accordo su quello che dico che è bello, o sono disaccordo su quello che dico che è brutto, però non mi sono mai permesso di andarvi a insultare, se alla fine voi mi state dando soltanto un vostro parere, soltanto così, dice sai Ivan, a me è piaciuto, ma non è che mi stai andando, allora se mi vai a insultare sul personale, allora pure io mi vado a insultarti, però queste persone te lo vedo a prendere sul personale, cioè ogni volta che queste, voi utenti criticate il film di cui loro parlano, loro si incazzano, manco l'avessero girato loro, o se i film l'avessero fatti i parenti loro, cioè non capisco queste persone, soprattutto che hanno 50 anni, il cervello secondo me non è avanzato, cioè fisicamente risultano che hanno 50 anni, ma sulle carte non penso, e forse prenderanno anche una 104, perché veramente per pensare certe cose a insultare pesantemente, perché veramente ci fanno liste di insulti incredibili, e voi ve le prendete pure, cioè ma che cazzo, ma togliete l'iscrizione, non li seguite più, seguite le persone che prendete, vi iniziano diciamo a commentare su qualcosa di, vi rispondono, cercano di argomentare, anziché soltanto a insultare. Perché questo non lo capite? Perché seguite questi canali? Cioè siete così masochisti da voler essere insultati da questi personaggi? Non lo capisco, non lo so, veramente, è tutto una cosa che mi domando il motivo, cioè come esempio io me ne vado, so che in quel posto, che ne so, c'è un ristorante X, che se entro mi trattano male, mi servono male, il cibo non è tanto buono ma ci vado, ma che so, coglione, ma seguite i canali di qualità, non seguite questi canali, seguite i canali che io spesso vi vado a citare, che sono delle brave persone, che vi ripeto di nuovo, che vi li cito di nuovo, c'è Antonio Tofani con Horror Room, che è un ragazzo splendido e che ne capisce di cinema horror, ed è sempre educato con chi è d'accordo, in disaccordo con lui, mi viene in mente anche Antonio Tofani, il canale Horror Room, o c'è Ivano Divano, che è anche un altro ragazzo veramente gentile, educato, tranquillo, questi canali sono canali piccoli che avrebbero bisogno veramente che ci fossero più persone che li seguissero, perché meritano più di questi stronzi che se la tirano solamente per avere 3.000 iscritti, veramente vergogna, questi qua di 3.000 iscritti sono vergognosi, se li meriterebbero questi 3.000 iscritti, questi canali qua, di mano a mano parla di un po' di tutto, attualità, calcio, parla di, non so se parla del grande freddo, ma parla di tutto, anche di cinema, ed è simpaticissimo, te rilassi, io spesso un indietro lo vedo a pranzo, bello, tranquillo, mi metti sui video, e si gode, poi c'è Fede Filming Sim con dei video più compressati, nel senso che non si dilunga molto, e ti devi dire quello che ti devi dire in poche parole, ed è un ragazzo giovanissimo, e che ne capisce di cinema, perché cazzo non seguite sta gente, anziché se questi corincoglioniti vecchi, di 50 anni e passa, che non è perché c'ha 50 anni, attenzione, è perché si vanta di, perché ha 50 anni, è perché ha più esperienza di voi, soprattutto ho letto che persone che hanno forse anche l'età più grande di questo coglione, ma hanno una cultura superiore, sicuramente, a questo qui, e anche intelligenza, nel senso che questo qua si sente soltanto superiore, soltanto perché nel documento risulta che lui è nato 50 anni fa, cioè non è che ti devi vantare perché sei nato 50 anni fa, eh? Ti devi vantare, a caso non è per quello che sei riuscito a raccogliere in questi 50 anni, io conosco delle persone di 60, 70 anni che hanno una cultura incredibile, mi hanno fatto scoprire un mondo di film, di registi, ma non sto coglione che va solamente a criticare anziché cercare di dare un insegnamento, dare, dice, ok, che ne so, te lo spiego un po' più tranquillo, no, va a attaccare subito, cosa ci concludi a attaccare qualcuno? E soprattutto cosa c'è da vantarsi sul fatto che sei visto tanti film o meno? Pure io ho visto tanti film, ok, ne ho 30, va bene, ho 30 anni, ma non mi vado a vantare con uno che ne ha 15, non mi vado a vantare con, ne so, con Antonio Dofani che ne ha, mi sembra 20, mi vado a vantare con Fede che è più piccolo e ci dico, ah, ma io sai, ho visto più, ma chi cazzo se ne fotte? Ma fagli creare a loro la loro cultura, piano piano le scopriranno, piano piano uno gliele deve anche consigliare, ma non c'è bisogno cazzo che arrivi tu a insultare, madonna santa, cioè ci sono questi cinquantenni ormai arrivati alla deriva, che si sentono superiori, si sentono veramente che stanno sul mondo cazzo da 500 anni, non sei un immortale, sei un coglione, questo è, lo dimostri soprattutto che a un'età del genere queste cazzate non si dovrebbero fare, quindi per favore non seguite più questi canali, abbandonateli a loro stessi e soprattutto quelli che ci collaborano, ma che cazzo ci collaborate a fare? Cosa per accumulare due o tre stritte in più? Ma ditelo a me che vi faccio pubblicità gratuita senza che vi vada a sfruttare, a farvi fare i video per me, i video me li faccio io, non c'ho bisogno che me le fanno gli altri, che dirò ok, quante volte cazzo vi cito questi tre canali? quante? Che a me nessuno cazzo mi dà niente, perché mi fa piacere parlare di lui, non è perché ci deve essere un tornaconto dietro, ci deve essere un guadagno, ci deve essere ma porca puttana, ma noi esseri umani non ce la facciamo a fare qualcosa cazzo di cuore senza per forza guadagnarci qualcosa dietro? Cioè io rimango senza parole, l'unico stronzo so io, allora veramente, sempre a cercare di aiutare gli altri, cazzo, ora vi lascio a voi con me, ci vediamo al prossimo video, ciao!